Quando alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Andrea Damante è un DJ, modello, influencer nato nel 1990 a Gela, diventato famoso quando era un tronista di Uomini e Donne, programma in cui ha scelto l'influencer Giulia Delellis con cui ha avuto una lunga storia. D'amore, Andrea Damante è inoltre partecipato al Grande Fratello Vip e attualmente il suo account Instagram conta oltre 2 milioni di followers. È fidanzato con l'attrice Elisa Visari. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Nonostante siano insieme ormai da oltre 3 anni, Elisa Vicari e Andrea Damante qualche mese hanno affrontato una profonda crisi. I bene informati hanno infatti reso noto che a far scoppiare la coppia, siano state delle chat del Damante nelle quali intratteneva conversazioni compromettenti con altre ragazze. Un desa vu che ricorda molto bene il periodo nero vissuto all'epoca da Giulia Delellis. Tant'è che per sancire i ripetuti tradimenti, scrisse anche un libro intitolato Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. Il pancino sospetto. Alla pubblicazione di questa foto che vedete in alto, gli utenti sul web hanno trascorso il loro tempo a scrivere cuori, messaggi di apprezzamento su quanto siano belli insieme e non solo. Ad attirare l'attenzione, special modo su Twitter, stata la pancia della bella Elisa Vicari, compagna di Andrea Damante. Secondo alcune persone, è assai probabile l'eventualità che dentro di lei ci sia un piccolo Damante, frutto dell'amore con il DJ veronese. Allo stesso tempo, c'è anche chi è convinto che sia solo un problema di prospettiva o che quella non si possa definire in alcun modo una pancia. Solo il tempo darà le risposte.